Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccamer89, siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite Signori, superiamo i 40.000 like quest'oggi Raga, vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi date su questo gioco Che mi date sul canale veramente, grazie infinite Vi ricordo che il 15 aprile sarò a Legnano E... E... Oggi è il secondo video che voglio registrare di Fortnite È sempre il 3-0-4 Il 4-0-4 Dovrebbero distruggere i pinnacoli, non lo so Però oggi ho voglia di registrare e mi vorrei portare un pochino avanti col lavoro Perché 17 è il mio lavoro, ma comunque Signori, paracadute sulle spalle E let's go Dovrei cambiarla questa skin, però mi piace, l'ho comprata oggi La gioco di nuovo, dai Signori, spawn goloso Nel senso che, dato che qua vicino c'è solamente acri anarchici La gente, sempre ipoteticamente, si... Oh! Vi prego, ditemi che state tutti qua, dai, fate i seri Fate i seri col vostro ciccio che è per 89 Ditemi che state tutti ad acri Datemi un'arma E divertiamoci Magari anche qualche cilvino Che non sarebbe male Oh yes Oh yes Siamo... Una cifra, regà 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Qualcosa del genere Mi raccomando, per favore, tutti sopra casa Come bei vecchi tempi Come si utilizzava bei vecchi tempi Guarda sopra la cazza Madonna Allora, ragazzi Supra la gente che muore In modi incredibili Ok Scendi, cazzo Bravo Allora, facciamo così Questo Mi prendo questo Ah, ma allora c'era qualche shieldino qua da qualche parte Allora, questo facciamo così Questo facciamo così Questo facciamo così Ok Ok Fanculo, bro Ok Il tizio Devo dire che ci ha provato Li vedo, li vedo, li vedo Non è male Non è male Questo non era male davvero Quindi prendo questo blu Mi prendo questo blu Faccio Così Anche se non è un setting Gli armi che io Adolvo Ok Però Sono armi molto potenti queste Le armi non mi servono 5 kg abbiamo fatte Non sono tantissime Nel senso che Potevamo capitare anche un po' di più Però Questo non era male Per fortuna Gli sono andato sopra Con le costruzioni Poi non so se lui C'aveva ancora materiale Perché se no Penso Mi avrebbe Riattaccato Non lo so Allora quanto ferro c'ho Chi cazzo si è messo a prendere tutto sto ferro? Sti matti Va bene Che poi tra l'altro vi vorrei far vedere Quanti ne siamo rimasti pochi Con la safe così grande È abbastanza È abbastanza assurdo Quando il gioco voleva Io non ho problemi C'è nel senso Va bene Va bene Potevo giocarmela a magnate differente Mi ha tirato qualche hit Il maledetto però Ok vi dicevo Siamo rimasti 28 Con una safe così grande Beh non vedo ora che buttano giù Stapinacoli Perché secondo me stavano tutti là E questo è Comunque il tre colpi Da così lontano subisce Ah Ok Allora diciamo le cose come stanno Cazzo con lo scar Non sei riuscito a ammazzarmi Cacca miseria Io l'avevo squagliato vivo con lo scar Ah ok L'ho visti Si è spostato Uh Quindi niente Si è spostato Uh Ah se ne sono accorti che Cioè oltre me Nel senso dico Ok Tu sei così sicuro eh Tu sei così sicuro Che vuoi fare una cosa del genere Cioè nel senso A me va bene tutto Ma cavolo Devi proprio sottovalutare il nemico che c'è davanti Per fare una cosa del genere Cioè L'avevi fratto anch'io eh Però Cioè Fino a una certa Ok Là c'è l'airdrop Che io sinceramente Continuerò andare a prendere Là c'ho pure una jump In realtà Così male non siamo messi Quello l'ho fatto proprio male Ho fatto proprio un sacco di danno Raga Siamo rimasti in 14 Vedi Difendere il proprio airdrop Nella Maniera Complimenti Gioco Complimenti Quante belle cose Che mi dai Comunque ce la faccio Senza problemi Dai C'è un sacco di munizioni 8 kill 14 persone rimaste Guarda quante cazzo Le persone morono Troppo velocemente Raga Troppo 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 Tutte nello stesso punto Non c'è senso Ma se non sbaglio Qua davanti a me Io ho visto Altro loot In realtà Qua davanti Ora non so se Oh Cazzocola Ma proprio così Ok Vediamo Tanto in safe Ci siamo Là sopra vedo pure roba Mesa uno slurp Qualcosa del genere Dovrei fare attenzione Perché da qui Mi potrebbe veramente Arrivare chiunque Dato che la safe Comunque No non è Non è quel che mi aspettavo Da dusty Qualcuno che va via No Da qua Qualcuno che va via Anche i pinnacoli Ancora rimane in safe Purtroppo Sono la gente Madonna però Pinnacoli Se Uh Chi è Ok Non è cattiveria Se c'ho questo Preferisco questo Lo so che è Completamente Differente Lo so perfettamente Però mi ci trovo Un pochino più Libertino A giocare Quindi Va bene così Per noi Mi ci sento Un pochino più A mio agio Però vedete Che ste partite Si son belle Sto fa Belle azioni Però Non trovo Sinceramente Per parlare Ve lo dico Non trovo mai Nessuno Che Oltre quello Di prima Che si è fatto Ammazzare In una maniera Di merda Faccia Un bel fight Di pompa Capito come Quello che intendo io Magari Se lo famo Perdo eh Però A farlo Ok Ok Lì Chiaramente Hanno Assaltato Un fortino E ancora Stanno Là No 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 Caro Ciccio Gamer Ah ecco L'ho visto Uno Ci ho visto Di un che Purtroppo Non credo Neanche Di avergli Causato Danni Non credo Qua sopra Se stiamo Per far male Là Non converrebbe Mai Andarci Cioè Se voglio Finire qua La partita Sì Se voglio Finire qua La partita Se no Per il momento No Per il momento Non credo Che sia Giusto Andarci Solo per il momento Io non ci credo Che nessuno Esce Da Da qua Cioè Non ci credo Proprio Quanto pare Però Che se no Sai che c'è Va bene Il gioco Eh vabbè Te pare Te pare Vabbè Paro Paro Un culo a cartaro Come ogni volta Ok 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 Uh Ora mo Bisogna vedere un attimo Perché Oh Attaccatelo da dietro Perfect Io ho visto un'altra skin Neve giuro Devo fare Un pari a fatti Grazie mia Porca miseria Ragazzi È tosta 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 Ok Delle volte Non ti cambia Costruzioni Sto gioco Ultimamente È un problema Si blocca Proprio Provo Provo Un attimo Ad attaccarsi Due Touret Tosta Che Sto Sch Che Che Quindi è più di uno E non lo so Sempre molto particolare questo gioco Mi sembra di averlo visto sotto Ok Me ne manca uno Non so dove Dai non sta là Non poteva sta là Dai sopra No non sta sopra Lo sai che non lo so Io posso fare lo stronzo perché Lo sto a cercare ma E dove sta Dai bro Fatte vedere però eh Ma qua non lo vedo Qua non c'è Oh ragazzi Non so dove sia Oh ragazzi Eh Mo va bene tutto però C'è fino a una certa Io posso capire tutto Però Oddio ragazzi Lo sai che vorrei provare a fare Se ci riesco Avvince 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 con i falò Ci vorrei provare a sto punto Perché sotto Sto bello Cagliardo Fammi vedere quanti ce n'ho Ce n'ho tre Ci potrei anche riuscire volendo Eh Avvince con i falò Perché l'altro io non lo vedo Ragazzi Cioè Potete di quello che vi pare Io non lo vedo Scusate Qua non c'è Qua non c'è Qui sotto non c'è Tu che Ma sei serio Oh madonna mia ragazzi Io non so dove cazzo Possa essere Ma non lo vedo proprio Ma non lo vedo proprio Ma sai che c'è Non me ne frega niente Sto sincero Ok Guarda eh Vado a morire Perché devo fare il coglione Sicuro Vado a morire Perché devo fare il coglione Guarda eh Quanto vi pare Scommettiamo Quanto vi pare Io ci scommetto Quanto volete Ok Dato che Ok Qua mi sento Un po' più Al sicuro Vediamo eh Cioè lui da qualche parte Ci deve stare Cioè non è possibile Sta dietro tipo un albero Qualcosa del genere Ragazzi sta dietro un albero Per forza Sta qua dietro Raga Dai Ok L'ho visto Quindi questa È tipo se la prendo vinta Praticamente Sta là Io so che sta là Lo so Faccio finta di niente Eccolo Eccolo laga Eccolo ecco Potrei ucciderlo eh Potrei ucciderlo in qualsiasi momento Qua eh Perché lui si è messo esattamente dove sta La safe Ci dovrei essere anch'io In realtà Bene Perché Se io faccio così qua Posso mettere due falò Se lui mi rompe sotto Sono morto Sono molto sincero con voi Ce voglio provare uguale Raga Non mi frega niente Ce voglio provare uguale Vediamo eh Che vedi io c'ho Falò falò Madonna ragazzi Ci dovrei essere Raga lo potrei uccidere in una maniera Ma in una maniera Oddio raga Vediamo eh Distanto lì non mi vede Quindi Se comincia a sparare qua sotto Però Vediamo eh Mannaggia a lui Raga Vedi Volevo fare tipo così Vediamo se ci riesco No Non ce l'ho fatta Raga Non ce l'ho fatta Quanto gli era rimasto 50 ancora Ma dai Ma com'è possibile Ci ho provato Chi se ne frega Chi se ne frega È stato divertente Signori Io Ci ho provato Potevo ucciderlo L'avete visto Se il video di oggi mi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Non l'ho capito Perché lui Si è rimasto con 50 di vita O si è sparato un medikit O Forse aveva delle bende Probabilmente Se avevo delle bende Potevo farlo Ma va bene Per la prossima volta Signori Se il video di oggi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi a posto di appuntamento A posto di cipro89 Come morire Come perdere Una partita Praticamente vinta Ma va bene così Per la prossima Per la prossima